Come amministrazione comunale ho chiesto questa disponibilità ad alcuni medici molto conosciuti qui sul territorio di Colle del Metauro proprio per dare questa indicazione, chi meglio di un medico può dire alle persone cosa fare e come fare e come affrontare questa situazione. Io ovviamente oltre che ringraziarli mi aggiungo a questo richiamo anche con una grande speranza perché qui è chiaro che noi ne usciremo ma sta di fatto che prima ne usciamo meglio è per tutti, prima ne usciamo meglio è per chi è malato prima ne usciamo sarà meglio per l'economia complessiva e per uscirne prima dipende dai comportamenti di ognuno di noi. Mi pare che la gente le inizia a capire fino ai giorni scorsi c'era questa incertezza quindi come amministrazione comunale questo richiamo l'abbiamo voluto fare forte e chiaro proprio qui dalla piazza di Colle del Metauro di Calcinelli insieme ai medici di base che sono a tu per tu tutti i giorni con le esigenze delle persone. Comunque un grande in bocca al lupo a tutti quanti ma soprattutto tenacia, forza, pazienza e rispetto delle regole.